Cosa è successo a Mario Pasalic, un giocatore che fino a un paio di anni fa era perno fondamentale di questa squadra, Super Mario che ci ha tolto le castagne dal fuoco tante di quelle volte che non riesco più neanche a contarle, quell'uomo che dal nulla sbucca la butta dentro negli ultimi anni sta avendo tanta tanta fatica e in particolare in questa stagione sta inanellando una serie di prestazioni che convincono pochi e tanti tifosi iniziano a mettere in dubbio la sua permanenza in squadra perché probabilmente ritengono che il giocatore abbia un po' finito gli stimoli, abbia bisogno di una novità oppure banalmente rispetto alle nuove dinamiche non si possa più inserire. Ciao a tutti, io sono Otis, benvenuti in questo nuovo video, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale. Faccio questo video perché lo sapete durante la pausa ci ha permesso di andare un po' più distesi, di parlare un po' più con leggerezza, di prendere gli argomenti anche un po' più ampi, cosa che durante il campionato è praticamente impossibile anche se so che molti lo vorrebbero. E oggi volevo avere un po' la vostra opinione su Pasalic perché dai miei feedback c'è veramente tanta avversità nei confronti del giocatore. Io credo che la verità stia nel mezzo ma mi farebbe piacere leggere nei commenti un po' voi che cosa ne andate a pensare. Pasalic è stato storicamente un giocatore importante per questa squadra. Non tantissime volte veramente se non c'era lui non so come poteva andare a finire. Ma è innegabile che anche e soprattutto in questa stagione il rendimento del giocatore al di là dei gol, degli assist, di quella roba lì, insomma, le prestazioni convincono veramente poco. Io credo, facendomi un po' una mia idea, che Pasalic sia un po' vittima dell'Atalanta. Cioè lui è l'ultimo insieme a Muriel di quei giocatori che erano l'Atalanta più forte di sempre. Quindi non c'è più Gomez, non c'è più Ilicic, non c'è più Zapata. Negli occhi dei tifosi le prestazioni, quelle prestazioni sono ancora ben presenti, di conseguenza ci si aspetta sempre da lui quella roba lì. Lui probabilmente dal canto suo viene anche penalizzato perché viene utilizzato spesso a partite in corso. Con questa responsabilità di dire tanto Pasalic in qualche modo la risolve e probabilmente questa pressione lo va anche un po' a schiacciare. Non vuole giustificare tutto perché veramente alcune prestazioni sono proprio brutte. Però penso che questo ruolo da salvatore della patria che gli viene dato perché faceva parte di un'Atalanta diversa lo stia penalizzando eccessivamente. Voi pensate a quanto siamo più clementi con i nuovi acquisti che magari non rendono rispetto a quanto subito ci irritiamo per le prestazioni di Pasalic. È ovvio che io so quanto può valere Pasalic, quanto può dare Pasalic. Di conseguenza una prestazione negativa può urtare il tifoso perché il tifoso sa qual è la prestazione media di Pasalic che può fare molto di più. Altri giocatori, quelli nuovi invece sono un po' delle incognite. Però credo che questa situazione ulteriormente vada a destabilizzare un ragazzo che caratterialmente non è mai stato proprio un condottiero. Nonostante sia stato spesso e volentieri quello che ci salvava non è il giocatore su cui devi costruire un frangente di partita. Non è un leader, non è un trascinatore o magari un leader silenzioso per carità. Però in campo non ha quelle smagne di protagonismo tali da dire lo mettiamo dentro e lui da solo raddrizza la baracca. Anzi, proprio per caratteristiche anche di gioco è uno che sparisce dal campo, è uno che scompare e riappare vicino alla porta a fare il tapina. Cioè sono caratteristiche che davvero da un lato possono anche urtare, dall'altro ci hanno salvato tante di quelle volte che ne basta la metà. Però, come ha detto anche ieri Luca Percassi a Sky, l'Atalanta non può vivere solo guardando indietro. L'Atalanta deve essere proiettata al futuro, il che non vuol dire non ricordarsi ciò che è stato, il che non vuol dire non fare valutazioni tenendo conto del percorso, ma vuol dire anche capire le prospettive future. Pasalic oggi, se il rendimento continuerà a essere quello, effettivamente è secondo me un giocatore in bilico. Cioè è un giocatore su cui si può fare un ragionamento perché molto probabilmente rimpiazzarlo con qualcuno dal miglior rendimento in questa fase non è così complicato. Allo stesso tempo un giocatore come Pasalic che ti accetta la panchina, che ti fa da subentrato, che non fa storie, è un tesoro importante per una squadra come l'Atalanta. Perché poi bisogna tener conto anche di questa cosa qua. Cioè io credo che Pasalic abbia avuto un lungo e felice trascorso all'Atalanta anche perché si è messo totalmente a disposizione. Non ha mai preteso la titolarità, non ha mai preteso un ampio minutaggio. Chiamato in causa ha sempre fatto il suo e questo ha fatto sì che poi venisse chiamato in causa con molta frequenza. Ma avere anche un giocatore che accetta di avere un ruolo più marginale non è da tutti. Quindi la valutazione è complicata. Da un lato, ripeto, è evidente che si può andare a pescare di meglio per rendimento. Dall'altro però un giocatore del genere forse vale la pena provare a recuperarlo. Se si può recuperare perché poi può anche essere molto banalmente che come tutti si invecchia per quanto Pasalic non sia vecchissimo. Ma avere un determinato ritmo di gioco, una determinata lucidità di gioco non riesce più a averla. Va tenuto conto che lui come Amuri era uno di quei giocatori che si esalta in un contesto che funziona. Cioè se l'Atalanta giocasse bene, rapidamente, velocemente, con una buona precisione ai passaggi, lui sicuramente si inserisce molto meglio. Lui si va ad adattare un po' al contesto generale. Lo metti in un momento in cui l'Atalanta gioca male, anche lui gioca male. Lo metti in un contesto che l'Atalanta gioca bene, probabilmente lui giocherà bene. E sono caratteristiche così. Caratteristiche che dovrebbero anche andarci bene per certi aspetti. Perché poi anche lì, forse a volte, anche scorrendo i commenti dei più giovani nel gruppo Telegram, mi rendo conto che si pretende troppo da un giocatore che non è chiamato a essere il trascinatore. Non è chiamato a essere la punta di diamante di questa squadra. Però poi la storia ti costruisce una nomea e su quella devi lavorare. Lui oggi a Bergamo è un giocatore che ha fatto grandi cose e quindi ci si aspetta sempre grandi cose. Questo è un altro elemento da valutare rispetto poi alla sua permanenza a Bergamo. Perché comunque non è facile convivere e coesistere con quell'immaginario là. Cioè voi vi ricordate quando Illicic nell'ultima fase giocava male? Te potevi dire quello che vuoi, ma tu avevi in mente un altro Illicic e non riuscivi anche volendo a metabolizzare lo stesso discorso Zapata. Cioè quello Zapata del 2017, 2018, 2019 non c'è più. Quindi è inutile vivere di ricordi, ma il tifoso non può fare diversamente. Perché comunque fanno parte delle proprie valutazioni. Sono curioso, ripeto, io non ho una posizione in questo momento perché non so realmente se il giocatore si può recuperare, se sta magari convivendo con dei problemi fisici da parecchio tempo o meno. Perché poi l'ultima volta che ha avuto un periodo del genere si scoprì che si portava dietro una puma al giro da due mesi e non si era fatto operare per non gravare ulteriormente sulla squadra che era molto molto deficitaria dei giocatori. Quindi mi aspetto questo ed altro da un giocatore che comunque per l'Atalanta ha fatto veramente di tutto. Però sono ugualmente curioso di sapere la vostra opinione e le vostre riflessioni in merito a questo. Fermo restando che è un chiacchiericcio da bar, che la nostra opinione non cambia assolutamente niente, che le valutazioni corrette verranno poi fatte dalla società. Io credo che possa essere comunque qualcosa di interessante raccogliere qualche feedback. Io come al solito vi ringrazio, tutti i miei riferimenti sono in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!